rame di dubbia provenienza maxi sequestro della polizia in un impianto autorizzato alla periferia di vittoria lavoratori in sciopero sitini di protesta dei dipendenti dello sportello multifunzionale dinanzi l'ufficio del lavoro di ragusa impazza il fenomeno debbero aiurato la giovane cantante ragusana in finale nella trasmissione amici di maria de filippi oltre 5.500 chilogrammi di rame sequestrato il più consistente sequestro sinora mai registrato in provincia di ragusa le indagini gli accertamenti della polizia di stato si sono rivolti sia agli impianti di smaltimento e di recupero di metalli che nelle aree maggiormente interessate dai furti gli agenti del commissariato della polizia di stato di vittoria di bombattino si sono regate presso un impianto autorizzato alla periferia di vittoria apparentemente non risultava visibile alcun deposito di rame ma dalla consultazione dei registri si è verificato come con gadenza giornaliera diversi soggetti conferivano rottami di rame in quantità variabili da poche decine a centinaia di chilogrammi ogni giorno in media una decina di conferimenti i poliziotti pertanto hanno richiesto i registri con le partite conferite e registrate negli ultimi giorni da un'ispezione più accurata all'interno di una vecchia cisterna di forma circolare celata nella discarica dei carcassi dei veicoli irradiati dalla circolazione sono stati rinvenuti centinaia di chilogrammi di rame complessivamente 3.300 kg di rame nudo e intracciato le prime indagini anche con l'ausilio del personale dell'Enel distribuzione hanno consentito di accertare che buona parte si trattava di cavi utilizzate dall'Enel nelle linee di distribuzione l'azienda interessata da qualche tempo in modo sistematico a furti di cavi in rame dagli elettrodotti di bassa e media tensione episodi criminosi che talvolta hanno ingenerato pericolo per la viabilità e le persone che hanno comunque privato intere contrade rurale della fornitura di energia elettrica l'insieme delle circostanze di rinvenimento e la tipologia del materiale sequestrato secondo gli ingurienti portano a ritenere che quando è stato rinvenuto è di provenienza sicuramente furtiva Tornano a protestare i 77 addetti agli sportelli multifunzionali della provincia di Ragusa stamane si tindi protesta davanti al centro per l'impiego di Vienpeduca Ragusa per manifestare il disagio di una categoria in attesa di risposte concrete dalla regione ad un mese dal loro licenziamento Siamo stamattina organizzato un sit-in che si tiene in tutta la Sicilia davanti ai CPI e ai centri per l'impiego per denunciare una situazione che continua a essere ingresciosa nella quale alcuni lavoratori della formazione professionale degli sportelli di orientamento si trovano a causa dell'inefficienza del governo regionale dell'incapacità del governo regionale e dell'amministrazione regionale di dare risposta in situazione paradossale perché paradossalmente sono lavoratori con un contratto a tempo indeterminato negli enti di formazione professionale si sono trovati con un contratto parcheggio per sei mesi a tempo determinato e oggi non si capisce se siano dei lavoratori o non siano dei lavoratori. Accanto a questo ci sono anche altre criticità all'interno della formazione professionale a partire per esempio dagli altri interventi formativi che rischiano di far saltare non solo i posti di lavoro in Sicilia ma anche l'idea stessa della formazione e dell'orientamento al lavoro. Questo in una Sicilia che ha bisogno di lavoro e ha bisogno di formazione significa un'esplosione del disagio sociale in generale e questo vogliamo evitare. Il governo regionale non ascolta da questo punto di vista, non riesce a dare risposte e quindi oggi inizia una nuova avvertenza che si concluderà a fine mese con lo sciopero generale proclamato da CGL e CISL e UIL in Sicilia se non si avranno risposte. Con la DAP intermedia di martedì in cui all'Assemblea regionale siciliana verranno discusse queste tematiche e quindi CGL e CISL e UIL insieme al gruppo parlamentare della Quinta Commissione dovranno fare pressione sul governo regionale per chiedere risposta a questi cittadini. Noi siamo qua oggi per chiedere al governo e questa iniziativa si inserisce in un contesto di iniziative che già da tempo sono state attivate. Innanzitutto la stabilizzazione di questo gruppo di lavoratori che è minacciato di una precarietà con dei contratti a collaborazione a progetto e soprattutto di chiedere un riordino totale del sistema della formazione professionale sia per quanto riguarda i servizi per l'impiego che in questo momento sono un nodo fondamentale per l'attivazione e la fruizione di Youth Guarantee che è il programma che dovrebbe rilanciare l'occupazione in Sicilia e per il quale questi operatori sono fondamentali viste le professionalità acquisite negli anni anche a spese di una riqualificazione fatta dalla regione stessa e chiediamo anche che l'intero sistema venga rimesso a regime e messo in mano a garanzie forti sia per i lavoratori che per i soggetti che devono fruire e della formazione e dei servizi per l'impiego. I consiglieri comunali di Raguse si schierano a fianco del consorzio universitario. La conferenza dei capigruppo ritiene inaccettabili innanzitutto per ragioni tecnico-giuridiche la scelta di recesso del consorzio universitario operata dal commissario straordinario dell'ex provincia regionale oggi libero consorzio comunale con provvedimento numero 9 del 28 aprile di quest'anno. Si chiede al Governo regionale e alla Deputazione regionale di agire nell'ambito delle proprie pregurative per far rispettare ed applicare al commissario l'ordine del giorno votato dall'Assemblea regionale, teso ad intervenire tempestivamente nei confronti dei commissari perché gli stessi revocano immediatamente i recessi formulati ripristinando le partecipazioni dell'ex provincia. I consiglieri inoltre impegnano l'amministrazione comunale di Ragusa qualora l'atto di revoca del provvedimento indicato non venga annullato in 13 giorni a voler dar mandato all'avvocatura comunale affinché assuma tutte le iniziative di carattere legale tese a ripristinare gli obblighi già assunti dalla provincia regionale nell'accordo transativo del 2 febbraio dello scorso anno con l'Università di Catania, il Comune di Ragusa e il Consorzio Universitario della provincia di Ragusa. In occasione del 22esimo anniversario della strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Mordillo e gli agenti della scorta, il Comune di Ragusa ha organizzato un'importante iniziativa alla presenza degli alunni delle scuole primarie e degli istituti cittadini che hanno esposto sulla balconata del municipio Uno Striccione che raffigura Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi è una giornata un po' particolare perché abbiamo fatto un viaggio di sensibilizzazione in onore di due grandi personalità che hanno lasciato una traccia storica, Falcone e Borsellino. I bambini si sono impegnati attraverso un percorso educativo didattico ad interiorizzare quelle che sono innanzitutto le norme della legalità, cosa vuol dire il senso della legalità e trasmettere questo messaggio a bambini di scuola primaria è stato molto coinvolgente dal punto di vista affettivo emotivo, loro hanno visto la proiezione di un film e da lì poi ne hanno tratto le loro considerazioni. Hanno attraverso un'attività grafico-pittorica messo giù quelle che sono state le emozioni vissute tra i banchi di scuola. Oggi siamo qua proprio in onore di queste due grandi figure dell'attuale storia italiana. Questa giornata per noi e per tutta Ragusa è veramente molto importante perché da questi cartelloni, da quante persone ci sono, ci fanno capire che siamo un po' tutti alleati contro questo crimine che purtroppo va contro tutta la nostra umanità ed è veramente molto crudele. Oggi siamo tutti riuniti per protestare contro questo crimine. Un corso per aspirante pizzaiolo, un momento formativo per i giovani allievi della scuola nosco di Ragusa. Alla pizzeria Magna Magna, i segreti dell'impasso della pizza. Siamo arrivati quasi a conclusione del corso, abbiamo fatto le parti più importanti degli impasti, i vari impasti, le tipologie, maturazioni, quelle a più fasi, un po' tutto. Penso che non abbiamo dimenticato niente. Abbiamo cercato di dare tutto il nostro bagaglio che conosciamo di trasferirlo ai ragazzi, avendo appunto questo come finale impasto che lo vedo più, quello là più completo, dove ti completa poi alla fine lo studio che stanno facendo i ragazzi. La caratteristica di questa pasta, per ottenere una velatura così, è praticamente importante molto l'idratazione ma soprattutto anche la maturazione. La differenza tra lievitazione e maturazione sono due cose diverse. La lievitazione non è altro che il volume della massa, cioè avviene la lievitazione e si forma nitride carbonica e alcol etilico. Per la maturazione invece noi dobbiamo rallentare la lievitazione nel frigo permettendo la maturazione, cioè praticamente non è nient'altro che la scomposizione degli zuccheri composti dell'amido in zuccheri più semplici, così otteneremmo una pasta molto digeribile, fragante e leggera nello stesso tempo. In pazza il fenomeno Debera Iurato, la giovane cantante ragusana in finale nella trasmissione amici di Maria De Filippi in programma martedì 27 maggio alle ore 21 su Canale 5. Tantissimi fan che seguiranno l'evento su un maxischermo in piazza San Giovanni a Ragusa. Previste anche la presenza live di un centinaio di amici e sostenitori che partiranno con due pullmane da Ragusa. Sono stati venduti in pochissimi giorni ben 350 cd musicali con sette brani dell'artista ragusana. Si può votare Debera Iurato nella finale di martedì 0 con un sms al 477 0000 oppure chiamando al fisso 894 100. In pazza il fenomeno Debera anche nei negozi che vendono brani e cd musicali? Grande perché una ragazza ragusana che sta avendo questo successo ne vale la pena prendere il cd va. Lei come l'ha conosciuta? Io la conoscevo tramite mio fratello però poi vista in tv l'ho vista cantare è uno spettacolo va. Gli è piaciuta anche la musica? Sì sì spettacolare la voce le canzoni che fa è bellissime. Quindi forza Debera? Forza Debera che in finale martedì si saprà il risultato. Speriamo che vinga. Grazie a questi eventi che si stanno succedendo a Ragusa per la prima volta negli anni 60. Siamo tornati tipo gli anni 60 quando c'era per accaparrarsi un 45 giri. Quella volta si doveva aspettare 15 giorni, un mese. Oggi abbiamo l'opportunità di avere subito questi prodotti grazie a Debera che è un evento straordinario con questa voce che si rifà un po' anche una voce di colore si può dire. Quindi in una forma ancora si deve specializzare, si deve strutturare. Però è un grande evento questo. Quanti pezzi avete venduto in poco meno di una settimana? Abbiamo venduto intorno ai 350 pezzi. Il giorno che è arrivato addirittura c'erano, aspettavano il correre qua, un sacco di fans che erano in piena euforia. Insomma era una cosa un po' emozionante. Sabato 24 maggio alle ore 20 e 30 ultimo appuntamento della stagione concertistica melodica. Chiudiamo veramente in bellezza con un concerto molto originale e particolare. È più un concerto show, più un concerto spettacolo. In effetti è stato intitolato Chic to Chic, la musica classica come non l'avete mai sentita. Protagonista un duo di eccezione, un duo al femminile, molto originale, formato dalla violinista Giannina Quazzarone e dalla pianista Deborah Vico. Due musiciste di formazione classica che hanno una grande carriera concertistica che li vede esibire in tutto il mondo. In sale prestigiose come la Carnegie Hall di New York effettuano regolarmente incisioni per la RAI, incisioni discografiche. Quindi due bravissime musiciste che però proporranno un programma veramente particolare adatto a tutte le platee che spazierà dalla famosa canzone italiana, alla musica da film o ai brani comunque di musica classica ma rivisitati. Quindi sarà un concerto molto divertente che appunto il pubblico apprezzerà tantissimo ma sarà anche una serata di grande impatto emozionale. Quindi non perdete l'ultimo appuntamento con la stagione concertistica melodica. Sabato, ripeto, 24 maggio alle 20 e 30, apertura del pubblico alle ore 20. Il biglietto intero euro 7 e invece il ridotto per i ragazzi fino ai 14 anni 3 euro. Un musical che traccia la figura di Domenico Savio, il padre fondatore dell'oratorio dei Salesiani. In 70 tra giovani e inziani hanno creduto in questo progetto. Al teatrino dei Salesiani il pubblico delle grandi occasioni. Per la via dei santi io ce la parò, devo avere forza costante, io non cederò, io non cederò, Solo tu, Signore, vuoi offrirmi tanta grazia, tanta forza, necessaria al tuo santo e il pezzo di seriorità. E sincero sempre, tanto da adesso io sarò un vero apostolo, un grande forte fino alla morte. Grazie per la visione!